Erano più di mille i partecipanti alla Conat Family Run, la corsa non competitiva che ha visto anche quest'anno giovani e giovanissimi i runner correre accompagnati da mamma e papà. Due chilometri dai giardini pubblici, passando per via di Roma, per piazza San Francesco e via Cerchi, ho vissuti con tanto entusiasmo e tanta allegria. Emozioni immancabili in questa corsa che, oramai da tradizione, anticipa la giornata dedicata alla Maratona Internazionale Città di Ravenna. Bene, siamo stanchi però. Vero? Molto, molto stanchi. Molto? Molto. Sì, sì. È stata faticosa, però molto faticosa. Eravate preparati? Abbastanza. Sì. Eravate allenati? A calcio e a basket. E a tennis. Ah, beh. Stamattina a casa facendo su e giù le scale. Ma ditemi una cosa, avete corso con i vostri genitori? No, sì. Io ho seminato. Ero una mamma lentissima. Io una sola. Eh sì, parlo per te, voilà. E poi hai corso con il tuo papà? Sì, però al fine sono andato, ho corso, più forte che potevo non mi sembrava neanche di correre. Flavi? Sì. Io non mi sentivo più le gambe. E tu? Io ho corso con il mio babbo, però dopo un po' dicevo mollo, mollo, ma alla fine non ho mollato, però c'era stata l'intenzione. Sì, fatemi vedere le medaglie. Io mi sono. No, non è una competizione. Eh, è vero, però ce l'avete la medaglia. È vero. Belle, bellissima. Un grazie anche a Viglia. Bellissima. Perché hanno fornito il loro mezzo. Bellissima.